Gentilissimi amici e amiche di Telecittà e di Facebook, oggi un grandissimo amico mio, persona per bene, un osteopata, Raffaella Alessandro Amato, come ha tutto questo nome? Beh, nasce dalla fantasia dei miei genitori, un po' così, un po' è per i nomi ereditati dai nonni, portiamo i nomi dai nonni, un po' perché forse Alessandro piaceva in famiglia e allora hanno deciso di mettermi tutti e due i nomi. Però siccome io ti conosco da tanto tempo, ma spiegare una cosa, caro Alessandro, queste escalation che hai avuto nella tua professione, come hai fatto? Quando sei nato? No, nato o nascito? No, quando sei nato a livello professionale? Allora, io nasco nel 2000, conseguito l'ultimo anno di scienze motorie, lavorando nell'ambito sportivo dove noi ci siamo conosciuti, da lì mi sentivo un po' scomodo e ho voluto approfondire le mie conoscenze, le mie passioni e da lì sono andato a studiare osteopatia. Ho fatto un percorso di perfezionamento di sei anni, di cui il primo anno ho beneficiato di un titolo universitario, cosa che a Siracusa siamo in pochi ad averlo e da lì è una lunga strada. Alessandro, scusa, ci puoi spiegare alle persone che ci seguono che ci risulta che sono in tantissimi e tutti quelli sia di Siracusa, della provincia e di tutta Europa perché Facebook, tu mi insegni che sei in tutto il mondo. Cos'è l'osteopatia? L'osteopatia è una medicina manuale ed è giusto chiarire subito di che cosa si tratta e che spesso e volentieri si va nel banale. È una medicina che nasce alla fine dell'Ottocento da un medico. Un medico che, deluso dai risultati della medicina tradizionale e della conseguenza morte dei suoi tre figli, decide di fare degli approfondimenti anatomici e sperimentali. E da lì batteggiò quello che è l'osteopatia. Cioè sostanzialmente la sofferenza dell'osso, di un'articolazione. E cosa cura di preciso l'osteopatia? Perché te lo dico con tutto il cuore. Io, mio figlio Stefano, io sai che faccio la ruota libera, era tormentato da un dolore alla spalla, alla schiena, non mi ricordo male. Io gli ho detto scusa ma perché non fai a fare visita ad Alessandro Amato? Dopo che gli hai fatto due sedute mi hai detto io ce l'ho fatto un'altra due ore all'esterno perché mi ha fatto rinascere. Che cosa cura? L'osteopatia cura le disfunzioni dell'apparato muscolo-scheletrico. Ovviamente quelle più nomenclate sono la classica cervicalgia, la lombosciatalgia, la dorsalgia, ma ne esistono anche di meno conosciute. Diciamo che cura sostanzialmente la funzionalità dell'apparato, cioè dell'articolazione. Noi ci occupiamo di far funzionare bene un qualcosa che funziona male per un motivo X. Di conseguenza una volta che applichiamo determinate tecniche, determinate cose, è anche vero che abbiamo spesso e volentieri una risoluzione veloce del problema. Scusa Alessandro, di solito si sente parlare di disturbi alle ossa o disturbi di qualsiasi genere alle persone adulte, ma puoi lavorare anche sui bambini per quanto l'osteopatia lavora anche sui bambini? Sì, sì. L'osteopatia in realtà prima dei bambini inizia già in fase dei nove mesi della gestazione della neomamma. Perché ovviamente durante nove mesi la neomamma si trova ad affrontare tutta una serie di problematiche, di problemi, ovviamente aumento del peso, delle variazioni morfostrutturali, che sicuramente la portano ad intraprendere una strada che porterà a delle algie vertebrali, mal di schiena, dorsalgie, cervicali, a volte dei problemi anche legati al pancione stesso. Lì ovviamente andiamo a lavorare in una maniera molto cauta, tale da andare comunque sicuramente a risolvere il problema. Dopo e durante il parto, oltre all'attenzione alla mamma, l'osteopatia poi va rivolta anche al neonato, dove sostanzialmente se è magari un parto normale scongiuriamo problemi. Se è un parto magari un po' travagliato, comunque traumatico, il neonato potrebbe, tra virgolette, avere dei problemi o respiratori o posturali e si agisce in maniera molto cauta, delicata, senza nessuna forma di contraindicazione, sicuramente risolvendo il problema e la sofferenza. Dottore Alessandro Amato, mi rianimo di nuovo quando dirò il dottore Alessandro Amato. Scusa, quante persone si rivolgono all'osteopata? Allora, devo dire che da quando io ho iniziato sicuramente le cose sono cambiate. Inizialmente, quando io mi presentavo come osteopata, tutti faticavano. Probabilmente perché c'era una scarsa informazione, probabilmente perché magari altre figure sanitarie in quel momento predominavano quello che era il loro lavoro. E questo per carità. Oggi devo dire che ci sono delle ricerche che ci documentano circa che 10 milioni di italiani si rivolgono all'osteopata. Spesso e volentieri mandati o dal medico di base o dal medico specialista. L'unica cosa che ci fa piacere è che entrambe figure sanitarie o altre, che sicuramente indicano l'utilizzo dell'osteopata, è il fatto di avere una denominazione comune. Cioè che spesso e volentieri noi siamo rappresentati come una soluzione rapida del problema. Noi andiamo ad agire subito, come dicevi tu nel caso di tuo figlio Stefano, un paio di sedute se siamo fortunati e il paziente va via sorridente e tranquillo. Lo posso testimianire io, perché con mio figlio Stefano. Ma quali sono le patologie di cui le persone si rivolgono all'osteopata? Le patologie sono tante. L'importante semmai è capire dove possiamo. Diciamo che l'osteopatia è completa, ma non è la panacea di tutti i mali. Sia chiaro, non vendiamo noi cose che probabilmente non possiamo mai essere all'altezza. Sicuramente dobbiamo stare attenti di fronte al paziente, quindi qui una buona anamisi aiuta sempre, perché problemi oncologici, problemi neurologici degenerativi, dobbiamo stare sempre attenti. Lì l'osteopatia non può essere applicata. Può essere applicata in una situazione multidisciplinare. Mi spiego. L'ospedale Megliere di Firenze, famosissimo, tratta dei bambini oncologici, purtroppo, dove un'equipe di osteopati, insieme e in forma multidisciplinare alle figure sanitarie, quindi medici, ha portato a dei risultati strepitosi. Cioè, questi osteopati sono riusciti in qualche maniera a calmare innanzitutto i disturbi collaterali che questi poveri bambini hanno, causa sicuramente dei mali maggiori. E peraltro hanno portato a una diminuzione dell'assunzione del farmaco, cosa che davanti a un bambino non è da poco. Perché è chiaro che l'informazione che dobbiamo dare sempre è che, per carità, tutto è utile, ma mai esagerare o fare un abuso di farmaci o di qualunque altra situazione. Questo ti fa onore, detto da te. Alessandro, scusa, stamattina parlavo con una mia amica e gli ho detto che stasera ti dovevo intervistare. E mi ha detto questo amica, ma gli puoi chiedere se l'osteopatia è riconosciuta? Recentissimamente sì. È stata riconosciuta nelle nuove aree sanitarie. Tale che adesso aspettiamo i nuovi decreti informativi, applicativi, date dal governo, che dovrà sicuramente, ci daranno chiarezza sul nuovo percorso universitario che dovrà fare l'osteopata. e ovviamente ci darà chiarezza anche per chi adesso si appoggia a un'osteopata e ci sarà sicuramente un qualcosa dove noi siamo riconosciuti, sicuramente dati dal governo. Stiamo solo aspettando, la cosa che aspettiamo tutti è anche che l'osteopatia entri nel sistema sanitario nazionale, al beneficio del cittadino, perché è chiaro che qualunque tipo di cura, ovviamente, ad oggi privata, magari non è accessibile a tutti. L'obiettivo di tutti noi è quello di essere alla portata di tutti e quindi dare a tutti una mano d'aiuto. Perché, scusa, mi diceva un altro, gli osteopati trattano gli organi interni, ad esempio il mal di schiena? Allora, questa è un po' una situazione, è un arcano mistero. Cioè sostanzialmente cosa accade? Accade che spesso e volentieri dobbiamo dissociare quello che per tanto tempo siamo stati abituati. Il sintomo non è sempre vicino alla zona di sofferenza. Non dobbiamo pensare che lì mi fa male, lì va trattato. Il paziente viene visto a 360 gradi. Quindi viene guardato, viene fatto un'attenta anamisi e spesso e volentieri ci sono dei casi in cui un mal di schiena può essere collegato a una sofferenza del colon, del rene, come una dorsalgia potrebbe essere legata a volte anche a una colicisti che dà delle noie. Ci sono dei sistemi, delle vie comuni tra le algie vertebrali e gli organi viscerali, ovviamente appesi o limitrofi alla zona della colonna, che ci danno una chiave di accesso alla sofferenza. Ma tu scusa Alessandro, te lo faccio una domanda terza terza. Ma lui per esempio se c'è qualcuno che soffre per esempio alla spalla oppure alla schiena, tu che fa prima di intervenire nella tua professione, chiedi per esempio una radiografia oppure un'ecografia oppure se soffre di colicisto oppure no? Bisogna innanzitutto sempre chiedere sempre una parte diagnostica. Diciamo che per regola il paziente si rega dall'osteopata già con una diagnosi e quindi fatta da un medico o comunque con dei certificati diagnostici, quindi una risonanza, delle lastre, un'ecografia in base al tipo di patologia o di sofferenza. E' chiaro che una volta che abbiamo le idee chiare, sempre sotto consiglio medico, agiamo e andiamo a risolvere il problema. Non è consigliato, anche se pur banale, agire senza aver fatto sia una buona anamnesi sia perlomeno avere dei certificati diagnostici tali che ci rendono il problema chiaro e noi possiamo agire in poco tempo e fare una risoluzione rapida del problema. Per concludere l'ultima domanda e poi ti voglio dire una domanda che mi ha detto qua la caposala di questo meraviglioso ristorante. Complimenti, bellissimo. Lo consiglierei veramente a tutti perché la prima cosa è l'impatto comunicativo, quello che noi chiamiamo la metacomunicazione. Quando sono entrato dà subito un'ottima impressione ed è una cosa che voglio dire perché sono entrato e ho visto e ho detto che bel posto, caspita. Alessandro Amato, dottore, sta parlando del ristorante Monte Carlo, via Santa Teresa, Siracusa. Però l'ultima domanda, qual è l'obiettivo dell'intervento osteopatico? In realtà adesso per un attimo ci spostiamo in una direzione un po' aleatoria. Perché? Perché quando si parla di osteopatia sembra che noi siamo chissà quali guaritori, quali stregoni. In realtà non succede niente di tutto questo. Accade sostanzialmente che l'osteopatia mira molto ai poteri di autoguarigione. In che senso? Un esempio semplicissimo. Siamo stanchi, una giornata pesante, mal di testa, può capitare, spesso e volentieri. Una sana dormita, l'indomani ci siamo di nuovo attivi, siamo dei leoni. Cosa è successo? Sono e un semplice potere di autoguarigione. Stil, il fondatore dell'osteopatia, diceva che il corpo sostanzialmente è la farmacia di Dio. Noi abbiamo già delle sostanze endocrine all'interno di noi, tali che possono darci una mano alla risoluzione di piccole sofferenze. E' chiaro, niente di così gigantesco. E' chiaro che poi per altri tipi di sofferenze o patologie serve sicuramente una mano più esperta. Mamma natura è sovrana e su questo non abbiamo nulla da dire. Però su piccole sofferenze ci dà una grande mano d'aiuto. Sostanzialmente l'osteopata cosa fa? E' un po' un supervisore. Andiamo a capire cosa il paziente vuole. Il motivo per cui è venuto a trovarci nel nostro studio. Sicuramente ci racconterà di tutto. Ci racconterà da quando si è fatto male a come magari è potuto venire con tutte le difficoltà in studio stesso. Da lì noi andiamo a captare cos'è che ha impedito di togliere la sofferenza. In questo caso una volta intuata va tolta. Riarmonizziamo la parte trattandola. E il paziente, come ti dicevo, va via tranquillo e sorridente. Non c'è nessuna forma di contraindicazione se tutto quello che c'è da fare viene fatto con i criteri che le nostre scuole ad oggi osteopatiche italiane ci insegnano. Scusa Alessandro, ti faccio una domanda banale. Ma che cosa bisogna fare per vivere bene in salute? Una bella cosa che la gente ti sta ascoltando a quest'ora e ti sta dicendo Ma un bello consiglio non potesse rarare Alessandro? Allora, niente di così pazzesco. Sostanzialmente stare bene significa osservare le buone regole della vita. Cioè senza andare a esagerare movimento, poca vita sedentaria. È chiaro che lo sport e l'attività sportiva va scelta in base anche a come tu passi la tua quotidianità. Se io faccio l'impiegato e quindi sono costretto a otto ore di vita sedentaria davanti a un pc, quanti di questi, magari raccomandiamo di fare diverse pause e nei loro momenti più liberi di fare uno sport dinamico tale da andare a contrastare tutto ciò che si può creare in quelle otto ore di sedentarietà. Alessandro, siccome per evitare, sai, te lo chiedo umilmente, scusi, per evitare che la gente mi chiami, dicendo che è sembrato questo dottor Amato? Ma uno può si raccogliare, cortesemente glielo puoi dire tu veramente, come fanno le persone a trovarti? In realtà... Non è tutta ma dire che ti chiami, dottore, Raffaele, Alessandro Amato, osteopata, sottoliamo osteopata. Allora, in realtà, come me, ce ne sono tantissime. A che interessa tu? Una da chi era a trovare la gente? Io ho uno studio, invio Unione Sovietica. Sono lì da tanti anni, esercito tranquillamente da solo, mi sono preso la responsabilità di prendermi oneri e onori di qualunque mio lavoro. Metto la faccia e ci metto la firma in qualunque cosa, quindi io, chiunque mi vuole venire a trovare, sono lì. Ma non avevo un telefono. Certo, non lo volevo dare perché... Io ho 339-5865-786 e il mio numero da vent'anni. Ma lo studio è un numero fisso oppure no? L'unico numero è quello, lo uso per vita privata e vita lavorativa, tanto sono abituato. Allora, ringraziamo il ristorante Monte Carlo che ci ha dato ospitalità per questa bella chiacchierata con il dottor Raffaele Alessandro Amato e ci vediamo per la prossima puntata. E mi ricordo un'altra cosa, che il ristorante si mangia benissimo. Arrivederci. Grazie. Grazie.